Prima amichevole stagionale per Castellanzese-Arconatese dopo pochi giorni dall'inizio del ritiro. 8 minuti e Gabriele Vavassori dal bentornato al mondo dei dilettanti con un gol da fuoriclasse. Punizione da dietro alla metà campo che sorprende il portiere dell'Arconatese fuori dai pali. Segna così il primo gol stagionale. Una rete da stropicciarsi gli occhi per il centrale ex Propatria che bagna nel migliore dei modi l'esordio con la maglia nero-verde. L'Arconatese replica col tiro di Alessio Quaggio, ha perso già parecchio in palla ma il bomber non inquadra lo specchio della porta e il pallone esce. Al quarto d'ora tremano però gli Oro Blu per l'infortunio alla caviglia occorso a Mario Chessa. CM7 ex di turno uscirà a spalla portato dai compagni e ora la dirigenza dell'Arconatese spera che sia stato soltanto un grande spavento per quello che dovrà essere il leader offensivo della formazione di Giovanni Livieri. La reazione in campo però porta al pareggio degli Oro Blu. Cross dalla destra, palla che resta in area di rigore e Ronzoni è il più lesto di tutti a trovare la rete dell'uno-a-uno. Il centrocampista ex casatese e Sondrio così ristabilisce la parità e riceve quindi l'abbraccio dei compagni. Dopo il pareggio Arconatese galvanizzata dal momento, bel lancio sulla destra a far correre l'esterno del centrocampo a 5 di Livieri. Tentativo di rovesciata di Lucia ma il nuovo entrato non riesce a intervenire sul pallone e l'azione sfuma. Nel finale di primo tempo si rivede la castellanzese, bello schema sulla destra ma il cross di tirapelle è sballato. Meglio Vavassori su azione di calcio e punizione ma la palla va a lato di un nulla nel tentativo di piede del centrale. Con le immagini andiamo ora nella ripresa, è subito occasionissima per l'Arconatese. Lucia ruba palla e con Quaggio si invola verso la porta avversaria. Salta l'avversario ma serve troppo tardivamente il compagno che perde il tempo e la castellanzese si salva anche grazie alle parate del suo portiere. Gol spagliato, gol subito, calcio d'angolo dalla destra e colpo di testa imperioso ancora di Vavassori lasciato però un po' troppo solo dalla difesa dell'Arconatese. Doppietta per il centrale e castellanzese che va sulle ali dell'entusiasmo dopo il gol del 2-1 ma anche in questo caso l'azione sfuma per l'apertura errata di Duchini alla ricerca del compagno. Partita però che si dimostra frizzante, l'Arconatese prova a reagire con un colpo di testa pericoloso. Dall'altra parte Bigotto manda alto un tiro su schema da calcio di punizione. Finale di partita pieno di emozioni, si supera Giroletti sul tiro a botta sicura da due passi di Duchini. Dall'altra parte manda alto di testa il pallone Scarabelli sprecando un'ottima occasione ma il gol è nell'aria e arriva con un'azione in fotocopia. Cross dalla destra di Rondanini e colpo di testa stavolta vincente di Messina che segna così il gol del 2-2 che sarà di fatto anche il punteggio finale visto che il successivo tiro da parte di Marmo dopo una bella azione personale finisce a lato col portiere dell'Arconatese che controlla. Il risultato non cambia più, Castellanzese e Arconatese continueranno ora a lavorare in vista dei primi impegni ufficiali.